Ciao, sono Anna Valli, sommelier e relatrice ai corsi per adulti. Per imparare a conoscere e apprezzare il vino, è importante partire dalla viticoltura. I fattori essenziali sono il suolo, il clima, il vitigno e la mano dell'uomo, che trasforma l'uva in mosto e con la maturazione diventa vino. Nei nostri corsi per adulti imparerai la tecnica della degustazione per saper descrivere il vino in modo corretto, attraverso le tre fasi. Con la vista, per il colore, i riflessi e la sua consistenza. Con l'olfatto, i profumi, il bouquet ed eventuali difetti. Con il gusto, i sapori, la struttura e la persistenza. Esprimendo un giudizio finale sulla maturità e il tuo grado di piacevolezza. Infine, imparerai le regole dell'abbinamento cibo-vino per creare menu armonici. Saprai scegliere la bottiglia adeguata per la tua preparazione e ti sorprenderai dell'equilibrio dei sapori gratificando le papille gustative.